Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi andremo a preparare gli straccetti con rucola e pomodorini. Per ingredienti ci serviranno aglio, rucola, i nostri straccetti, pomodori e sale. Dopo aver scaldato la padella contenente l'olio extravergine d'oliva, andiamo ad aggiungere l'aglio. Dopo che l'aglio sarà appena appena dorato, andremo ad aggiungere i nostri straccetti. Mi sono fatta aiutare dalla mia assistente per mettere gli straccetti. Adesso andremo ad aggiungere il sale. Non so perché ma a me cucinare mi rilassa. Diamo una mischiatina, almeno il sale va anche negli straccetti che sono rimasti in profondità. Adesso andiamo ad aggiungere i pomodorini. Ok, adesso mescoliamo. Adesso aggiungiamo la rucola. Belli coperti, almeno, che sono tolti dal friggio. Già che ci siamo, mettiamo anche una spolverata di pepe. Dopo aver dato una bella mescolatina, lasciamo lì per qualche minuto e poi spegniamo il fuoco. Prendiamo un piatto da portata come questo. Poi facciamo un bel lettino di rucola. Ok. Dopo aver versato, dopo aver messo la rucola nel piatto, andiamo a versare gli straccetti. Ho versato gli straccetti sopra il letto di rucola. Adesso vado a mangiare. Un bacione. Al prossimo video. Ciao! Ciao!